Salve e benvenuti a questa meditazione. Oggi vi invito a fuggire ed evadere per un momento. In questo momento ritroveremo ricordi piacevoli, ricordi che vi faranno sprofondare in uno stato di rilassamento profondo. E questa tecnica vi permetterà di ricaricare le pile, superare l'ansia e lo stress. È possibile anche utilizzarla per conciliare il sonno. Assicuratevi quindi di essere comodi e iniziate respirando profondamente. Durante questa meditazione una parte di voi lavorerà, assimilerà la tecnica. E una volta acquisita completamente, potrete usufruirne ogni volta che ne avrete bisogno. Per questo è utile ascoltare questa sessione più volte, essere in grado di integrare bene gli insegnamenti. Siete perfettamente connessi, quindi eccovi qui, pronti per iniziare. Gli occhi sono chiusi e l'immaginazione può prendere il sopravvento. Respirate profondamente dal naso. Il ventre si espande e successivamente la gabbia toracica. Lasciate che l'aria prenda il suo posto nei polmoni. Poi espirate con calma. Espirando, il torace si sgonfia. Poi si sgonfia il ventre, che lentamente sprofonda verso il basso. Al termine di ogni espirazione potreste notare un po' di tempo di riposo. Circa un secondo tra l'espirazione e l'inspirazione. Eseguite questa respirazione più volte. Gonfiate il ventre, la gabbia toracica e lasciate uscire l'aria in espirazione. Con calma. Il respiro si fa più profondo e rallenta. La mandibola inizia a rilassarsi. La fronte diventa sempre più liscia. Il viso diventa più disteso e sereno. Respirate profondamente. Percepite la differenza di temperatura tra l'aria che entra nei polmoni e l'aria che esce. Sentite l'aria calda che esce dalle narici durante l'espirazione. Mentre respirate con calma, accompagnati dalla musica, approfondite ancora di più questo stato di rilassamento. E il rilassamento inizia a diffondersi in tutto il corpo. Attraverso le spalle. Le vostre braccia. Sino alle vostre mani. E quando avrà raggiunto le vostre mani, sentite che le dita si allargano leggermente. e si allontanano fra loro. È un movimento molto lieve. Quasi impercettibile. Concentratevi su questa sensazione di dita che si allargano e si allentano. Lasciatele andare e lasciatevi trasportare. La sensazione di rilassamento La sensazione di rilassamento si sposta verso l'addome scende fino alla schiena e si muove attraverso il busto per sciogliere ogni tensione. Scende e scende ancora alle gambe a rilassare a rilassare ogni muscolo rilassare ogni fibra muscolare lentamente a rilassare godetevi questo momento di calma. Questo momento è solo per voi. Il rilassamento arriva dolcemente ai polpacci con tranquillità e sentite quest'onda di rilassamento che si intensifica un po' di più in tutto il corpo. Raggiungerà i vostri piedi lasciate che scenda ancora un po' rilassare 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 i muscoli dei piedi i tendini e tutti i piccoli legamenti. Questo rilassamento soddisfa in tutto il corpo permette di riconnettersi a una parte molto profonda di voi. Ad ogni espirazione vi consente di rilassarvi in modo ancora più confortevole. in questo stato di calma lasciate che le cose accadano naturalmente perché il vostro corpo è esattamente ciò di cui ha bisogno ora. Mettete tra parentesi tutto ciò che vi circonda il mondo esterno lasciatelo da parte perché la cosa importante è proprio qui e ora nel profondo di voi stessi. sono proprio le sensazioni e la percezione di calma che divengono le cose più importanti. questo spazio di calma forse farà emergere un ricordo piacevole. tutti noi in passato abbiamo sperimentato un momento molto piacevole un momento molto piacevole un momento di calma un momento di calma a quel tempo eravamo molto rilassati c'era un senso di pace interiore forse durante una passeggiata in riva al mare o durante il fine settimana o forse prima di andare a dormire a volte a volte quando si è molto stanchi e ci si sdraia non appena il corpo tocca il letto ci si addormenta in pochi secondi allora lasciate che tutte queste immagini giungano a voi emozioni sensazioni sentitele appieno ricreate quel momento quell'attimo in cui tutto è così semplice così calmo vedete tutti i dettagli tutto ciò che vi circonda forse anche le persone con cui vi trovate ricordate ricordate tutte quelle piccole cose che vi fanno sentire sempre più calmi accogliete tutte le sensazioni accogliete tutte le sensazioni lasciate che tutto venga a voi lasciatevi sedurre e assorbire da questo momento di rilassamento e serenità la sensazione di calma aumenta mentre procedete mentre procedete leggermente più confortevole ad ogni secondo che passa come in un bozzolo come in un bozzolo protetto e lontano da tutto lasciatevi andare siete dentro di voi in armonia con la vostra natura più profonda e vi sentite così bene da lasciarvi andare in qualsiasi momento è possibile ritrovare questo stato di rilassamento basterà pensare a questo ricordo per far tornare le sensazioni di calma e serenità sarà sufficiente respirare profondamente più volte e pensare al ricordo allora vi lascio per un momento ancora un minuto per farvi assimilare questo stato d'animo questo stato di calma e quando la musica si ferma potete tornare a voi stessi e riprendere la normale attività pienamente svegli vi ringrazio e vi aspetto presto per farvi per farvi vi ringrazio 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 Grazie a tutti.